Grazie per questa grande professionalità, questo impegno e anche per quello che lei sta dando e da tutta la comunità, quindi grazie davvero. E' stata veramente una grande risposta corale. Sì, volevo dire proprio questo che non avrei mai potuto fare da solo senza tantissimi colleghi e senza un'università veramente di eccellenza. Quando io ho parlato di organizzazione volevo dire anche questo, cioè qui c'è stata un'organizzazione che ha riguardato certamente rimettere in moto una macchina cercando di evitare, che non era semplice, il contagio, quindi è stata formidabile. Ma questo si può fare se c'è sempre una filiera, nel senso che c'è un'organizzazione che riguarda l'ospedale, le forze dell'ordine, la scienza, la regione, c'è una collaborazione di tutti gli amministratori, anche locali, insieme a tutto il personale che ci sono rappresentanti di tutti. E allora funziona. Noi funzioniamo così, ma l'organizzazione è qui a funzionare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.